Dopo due anni un saluto alla città di Teramo, che si sente di dire? Innanzitutto sento di ringraziare tutta la popolazione e spero nel mio anche breve periodo di aver dato un contributo. Sono cosciente che sono stati due anni abbastanza difficili per una serie di eventi che Teramo ha dovuto affrontare, il terremoto, la neve. Come amministrazione abbiamo dato il massimo, è una città che ha ancora bisogno di aiuto e che comunque lascio tristemente perché mi sono trovato abbastanza bene e vorrei comunque dare un saluto caloroso a tutta la provincia. Dove andrà adesso? Andrò a Chieti come capo di Stato Maggiore al Comando Legione Abruzzo e Molise, quindi sarò il capo dello staff del Comando Legione. Grazie. Grazie.